Ok ragazzi, allora ci sta il mio amico che è il regista, io solo dirà per controllare se c'è gente ovviamente Perché stiamo per tirare una bomba all'idrogeno Con plastica veramente dura Da 2 litri e 270 1000 litri Adesso questo lo mettiamo di qua Ma... Zitto 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 No non ci sono passi Ok, non toccare perché adesso l'izionatore è attivo Non toccare ti prego Passa qua, passa qualcosa Eh sì bravo Venendo in seconda che gli facciamo vedere la... Che hanno un'altra Stai ancora a gestione? Sì 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 Ho visto una bomba Questa è la bomba Io mi metto di là Per mettere in tappo le orecchie perché non voglio morire Perché mi metto in tappo le orecchie Vai Vi ricordo io quando partire, ok? Vai Aspetta Senti se di là c'è qualcuno No Aspetta No No 3 2 1 Vai Porca boi Mi è arrivato un pezzo di muro addosso Mi ha fatto biondo Odore di menta Senti che buon odore E' Io lo sento del sudore Infatti questo era una bottiglia di menta Lontani Dove si è sfasciato Ah che puzza sto qua porca vacca Quelle cazzo li buttate? Guardami qua Non è che si sia spaccato Ha fatto tanto? Boi Mi è arrivato un muro addosso Un muro? Che cazzo dici? Pezzettini di muro mi sono venuti addosso Qua mi sono venuti Sono stati questi Tiro il muro cazzo Ario mi ha spostato Anche a me No scherzo a me no A me si perchè fossero anche Perchè di là si sente di più Che di questo Bastardo Ma penso che ne avrebbe fatto di più Se non si sarebbe spaccato il campo Minchia guardi Eh ragazzi Questa è stata la botta E' stata forte Pissa lampadina Ecco Adesso c'è Va bene Spegni il video Ciao